Buongiorno ragazzi, come state? Tutto bene? Oggi stavo ragionando un po' così sulle varie teorie, legge di attrazione, la fede, credere in se stessi. Molti in passato mi hanno detto che se non ci credi non ti viene, effettivamente è vero, però ognuno di noi ha un suo modo personale di darsi degli ordini se vogliamo, darsi delle priorità, parlare a se stesso. Sono giunto ad una conclusione mia personale, una conclusione molto semplice che però ho subito appuntato e mi sono subito memorizzato. Tutti mi dicevano devi crederci e io a volte capivo, a volte non capivo, perché a volte ho delle buone idee, a volte magari sono duro di comprendonio, ho tanti difetti e quindi... Il discorso non è devi credere in quello che fai. Per quello che mi riguarda devi fare quello in cui credi. Se io credo di poter fare una cosa la faccio perché ci credo, quindi ci metto tutta la mia passione. Se una cosa ti piace la fai alla grande e non hai più freni. Vivere da full timer mi piace ad un livello che non immaginavo. Forse se avessi iniziato a vent'anni o più giovane, chissà. Però fare quello che ci piace ci stimola, ma forse stimola, sminuisce questa cosa. Fare quello in cui si crede. Allora è come magicamente, non ne ho idea, non so spiegare questa cosa, però ti porta a... neanche un risultato, ti porta a modificare il mondo intorno a te. Grazie.